Buonasera a tutti, bentrovati alle degustazioni dell'ora 17. Questa sera vi porto in Piemonte a conoscere un vitigno insolito, uno di quei cosiddetti vitigni minori ma di cui il Piemonte è molto molto ricco. Si tratta della freisa o della freisa, anche questo è un vitigno che spesse volte i piemontesi chiamano al femminile. La freisa, la freisa si sa che è in Piemonte dal Settecento, hanno cominciato a parlarne in quell'epoca gli ampelografi e tuttora naturalmente è piuttosto diffuso un po' in tutta la regione. Si sa poco effettivamente delle sue origini e di conseguenza si è sviluppato molto interesse attorno a questo vitigno. Il CNR di Torino attraverso la dottoressa Schneider ha indagato un po' sulla sua identità attraverso il DNA vegetale e ha trovato che vi è qualche legame con il nebbiolo. Vi è un grado di parentela ma non definito, cioè non si sa se è un genitore o un figlio di questo altro vitigno. C'è comunque questo grado di parentela ma è ancora tutto da identificare con precisione. È un vitigno estremamente generoso e di fatti i produttori hanno sempre il problema di contenerlo un pochettino, di limitare un po' la sua esuberanza. Ha una foglia più larga che alta, ha dei grappoli abbastanza piccoli di forma troncoconica, qualche volta con qualche ala e ha degli acini da medio a piccoli, un po' secondo dei biotipi che esistono sparsi un po' in tutto il Piemonte. Ha una sua ricchezza varietale, diciamo così, data dai caratteri molto molto spiccati del vitigno che ha una forte acidità e anche una fortissima ricchezza tannica. Questa è un po' la sua caratteristica. Questa sua esuberanza proprio tra acidità, tannicità e forse non elevatissimo grado di eleganza ha sempre creato in qualche modo una sorta di schieramento opposto. Da una parte i detrattori, dagli altri i pautori, tutto perché sostanzialmente di questa uva non se ne conosce bene in qualche modo l'identità, l'identità precisa. Qualcuno l'ha sempre utilizzata per farne dei vini semplici, spumeggianti. Qualcun altro invece l'ha sempre utilizzata per sostenere un po' la Barbera. Anche nella Barbera qualche volta aveva bisogno di un pochettino di tannicità e certamente la fresa veniva in suo soccorso. Chi si è posto naturalmente il problema di identità di questo vitigno è certamente Aldovaira. Aldovaira è di Barolo, abita nella zona vicino a Vergne, siamo nella Via delle Viole. È un'azienda tipicamente familiare, marito e moglie e figli, e porta un nome tra l'altro molto molto simbolico. Perché Vaira in sanscrito vuol dire fulmine, vuol dire diamante, qualche cosa di luminoso. E tra l'altro anche nel buddismo ha un valore molto molto simbolico, simboleggia in qualche modo la realtà, la forza della natura, o meglio il potere della natura. E naturalmente chi più di un viticoltore deve fare i conti appunto con il potere della natura. Tutti gli anni il viticoltore deve fare i conti su ciò che la terra gli dà e ciò che il cielo gli dà. Quindi questa è tutta una famiglia dedita al lavoro della campagna e hanno anche proprio come dire un senso religioso del lavoro, della natura, della famiglia. È davvero una famiglia molto 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 particolare, molto tenera, proprio nel loro approccio così ai temi della natura e della viticoltura. E quindi proprio da Aldovaia naturalmente si è chiesto il problema, chi è la Freisa? Ed ecco che appunto gli ha dedicato un vino che appunto si chiama Chi è? È una Langhe Freisa, è un vino del 2005 e lui appunto si è chiesto, si è posto questo problema. Cos'è la Freisa? È quel vitigno che appunto ha sempre dato in Piemonte questi vini molto semplici, molto beberini, molto facili, oppure nasconde qualche elemento di come dire di aristocrazia data forse anche la sua parentela con il Nebbiolo. Allora lui ha voluto impegnarsi, ha voluto produrla nella sua terra per cercare di far esprimere tutta la personalità di questo vino appunto per indagarlo, per cercare di capire cosa si nasconde dietro queste piante molto molto esuberanti, molto rigogliose. Eccolo qua, questa Freisa del 2005. È un vino di notevole impegno, non pensiate che la famiglia Vaira abbia fatto questo vino così soltanto per provare a fare un vino strano, un vino diverso. No, no, loro usano praticamente tutta la loro capacità, la loro attenzione, la loro cultura per produrre qualsiasi vino. Dal più prestigioso Barolo Bricco delle Viole al più semplice appunto dei vini che loro ho prodotto. Questo è certamente un vino che si pone davvero dagli interrogativi. Allora andiamo subito a sentirlo, ad annusarlo, ad assaggiarlo per cercare di capire cosa ha trovato Aldo Vaira in questo fregno. Il profumo parte subito con delle note che si contrappongono tra un frutto abbastanza dolce ma anche piuttosto fragrante con note di lampone, con note di frutta quasi acerva, molto acidula e con un tocco quasi, diciamo quasi vegetale, quasi balsamico che rende questo insieme molto molto singolare. C'è poi una bella speziatura piuttosto viva, piuttosto vivace, quasi piccante, un pochettino pepata che anima molto la sensazione olfattiva. E poi vi è anche un notevole incursione floreale che dà proprio dei toni abbastanza vivi. C'è la violetta qua, al contrario del nebbiolo che regala la sua dolcezza con la rosa, qui c'è un carattere invece un pochettino più nervoso, un pochettino più mosso, un pochettino più dinamico dato appunto dalla violetta. È un bel insieme di profumo molto vivo, molto vivace, costruito attorno a tutti questi elementi piuttosto vivi, vivaci, non certamente morbidi e quietanti, non molto accomodanti. In bocca invece c'è un'esplosione fruttata, c'è un'esplosione di frutta, ancora di frutti di bosco, molto molto fragranti, come dire, molto succoso, molto molto fresco, molto fragrante, di un frutto appena raccolto. Anche la tannicità è molto molto sensibile in bocca, è una tannicità fitta, minuta, ma molto molto agile, che si muove, dà un bello dinamismo in bocca al sapore e al gusto. Anche la tannicità in bocca anima molto la sensazione gustativa, è un tannino piccolo, ma graffiante, che tiene molto molto sotto pressione la bocca, la tiene continuamente animata, continuamente sensibile alla sua grana. Davvero un vino molto interessante per questo suo contrasto, per questo suo insieme di note dolci e mature, acidule e tanniche. È davvero un insieme molto molto complicato, molto complesso. Anche dopo averlo riassaggiato tante volte è davvero difficile trovare l'essenza della sua personalità, l'essenza della sua identità. Certamente non è un vitigno facile, non è un vino accomodante, è un vino molto interessante, che suggerisce continuamente ripensamenti, riflessioni sul gusto, sui profumi, sul senso di una viticoltura così ricercata, così particolare, così di nicchia, ma ricca. Ricca perché appunto ci dà delle sensazioni nuove, sempre diverse e sempre molto molto interessante. Facciamo i complimenti quindi al lavoro di questa famiglia, che è proprio, come dire, alla ricerca di nuove identità, di nuovi gusti, di nuovi stili. E questo davvero è davvero un vino molto molto interessante che va proprio in questa direzione. Il Fresa Chi è? del 2005 di Aldo Weyer. Io ringrazio tutti voi dalla vostra attenzione e come sempre vi do appuntamento a domani sera.